Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia Volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui nuovi video Il capo della polizia di Patuntami ha ordinato un'indagine su una stazione di polizia della provincia in quanto gli è arrivata una segnalazione che a notte tarda i funzionari che dovrebbero fare il turno di notte chiudono e se ne vanno tutti a casa Pare che in questa provincia di Patuntami, se succede un crimine di notte e le persone vanno alla stazione di polizia per sporgere denuncia devono aspettare qualche ora l'arrivo della polizia Ma la denuncia è partita su segnalazioni di altri funzionari di polizia che ha accompagnato un sospettato di traffico di droga alla stazione non hanno trovato nessuno e hanno filmato la scena Dopodichè hanno chiamato il capo del distretto per avere delle spiegazioni in merito Il capo del distretto incriminato si è presentato davanti al distretto di polizia dove c'erano gli altri funzionari spiegando che di solito di notte resta un ufficiale non incaricato, probabilmente una guardia giurata Dopodichè uno dei funzionari ha detto che stavano registrando un video e il capo del distretto si è girato e si è avvolto La notizia finisce qua, ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao